Musica Ospiti detective di ieri sera sono le sorelle Goggi, Loretta e Daniela. Le due artiste giocano per devolvere il monte premi in beneficenza. Ma proprio all'inizio dell'indagine avviene qualcosa di inaspettato. Le sorelle Goggi individuano nell'ignoto numero uno lo chef stellato che prepara piatti con i fiori. Ma al momento di rivelare la sua identità il concorrente compie un gesto inaspettato. Andrea, questo è il nome dell'ignoto, invece di collocarsi in postazione esce dallo studio. A bloccarlo Amadeus ha libito. Dove va? Iniziamo bene. Poi il conduttore cerca di uscire dal momento di imbarazzo scherzandoci su. Forse è andato via perché si è sentito scoperto perché furioso per il fatto che non abbiate indovinato. Alla fine Andrea è proprio lo chef che cucina con i fiori. E soltanto è in studio, il gioco continua. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie a tutti.